bello ragazzi sono io oggi siamo su un vlog quindi è notte ho finito proprio l'ora di mangiare la pizza quindi questo video lo farò per dirvi che non ho fatto video mamma mia non si era visto e non facevo video quindi andate a vedere subito il video che ho fatto il video precedente che ho fatto ieri che però ho la telecamera grande perchè mi sono scordato di impicciolirla però scusatemi ok ragazzi ho tagliato perchè stavano vedendo qua qualcuno e la patata e poi mi facciamo con la patata quindi allora guardate pure qua questa qua questa l'ho levata perchè se no non potevo fare un video del cavolo che c'è il suo coso qua che mi da fastidio è questo coso guarda così quindi quindi forse domani farò un video su minecraft però devo come si dice devo trovare un buon programma per registrare lo schermo del di qua di qua del tablet quindi ci proverò e se domani non escerò niente vi prometto che farò un video sul computer non so di che cosa non so di che cosa e niente niente e c'è un gioco che voglio fare ahahahahah ahahah 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 quindi sarà che lo faccia subito domani ve lo porto domani mattina forse domani mattina farò un video dal cavolo ma vabbè quindi niente quindi domani aspettate che faccio un video videozzo piccolozzo scemozzo ye 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 si va bene non faccio più il petino eh eh aiuto tutta la capra allora quindi se il video vi è piaciuto mettete un commento e iscrivetevi spolleciate e ci vediamo prossimamente bene ragazzi prossima puntata prossimo vlog scusatemi